Uno ha segnato 67 reti in carriera, tre in stagione, l'altro ha trovato la prima gioia in 161 partite e lo ha fatto con fascia da capitano al braccio, Giuseppe Giovinco e Antonio Ferrara. Ci sono le loro firme sul 2-1 del Taranto contro il Potenza, risultato che ha portato il team di Giuseppe La Terza al terzo posto a 20 punti con Catanzaro e Palermo. Io a occhi chiusi tiro e vedo una volta che mi importa. Poi sta troppo bene il risultato, ho trovato una notte. La replica faccio alla mia famiglia e a questa gettata. Il Taranto è a tutti gli effetti la sorpresa del girone C, galloni meritati mantenendo l'identità che ha portato la squadra dalla Serie D ai pro, solidità difensiva e tanta fame, istruzioni acquisite anche da chi è in squadra da qualche mese come Giovinco. Magari non saremo bellissimi, però sappiamo quello che dobbiamo fare. Non sempre si può essere pronti subito. Il gioco che facciamo è dispendioso, quindi stavolta siamo stati bravi, però dobbiamo migliorare ancora tanto perché non basta quello che stiamo facendo, quindi dobbiamo continuare su questa strada. E pensare che secondo i protagonisti sul campo i margini di miglioramento sono ancora ampi. Io non ho fatto ritiro. Falcone ha fatto risorgio oggi dopo sei mesi. Facilie comunque anche non ha fatto ritiro. Siamo tanti a dover trovare la forma, quindi giocare non basta perché comunque solo giocare non va bene, però credo che una volta che staremo bene tutti fisicamente potremo ancora migliorare perché questa squadra può fare ancora tanto. Ferrara è il ritratto della squadra partito dalla D, oggi è terzino di categoria e a soli 22 anni non teme la responsabilità di indossare la fascia da capitano. Sicuramente i margini di miglioramento sono tantissimi. Io, come ho detto prima, cerco di dare il 100% in allenamento e poi di sfruttare i consigli che mi dà il ministro e i compagni, cerco di sfruttarli a domenica. Trasferte ad Avellino, Monopoli e Castellammare di Stabia, sfida interna al Catania, novembre a tutto il sentore di poter essere il mese della verità per il Taranto, Giovinco detta la linea, pensare solo, di partita in partita. Noi siamo sempre stati lì sul pezzo a lavorare giorno dopo giorno e il lavoro alla fine faga, quindi continuiamo su questa strada. Non possiamo inventarci sicuramente altro perché i risultati ci stanno dando ragione. È normale che magari determinate caratteristiche non si sposano, però dobbiamo fare sacrificio a partire dai miei attaccanti, è nulla. L'importante è raggiungere la storia della sapienza prima possibile.